Salve a tutti amici e bentrovati. Prepariamoci ad alcuni giorni dove il tempo tornerà a fare seriamente i capricci. Dopo un inizio di settimana abbastanza tranquillo si avvicinerà un vortice ciclonico dal nord Europa che invierà una perturbazione che interesserà il nostro paese soprattutto nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. Mercoledì sarà una giornataccia per il nord, parte del centro, giovedì verrà coinvolto in parte anche il sud e tra giovedì e venerdì questa perturbazione si concentrerà soprattutto sulle regioni centro-meridionali, sui settori del nord-est portando anche parecchio maltempo, situazione che poi bisognerà seguire giorno dopo giorno per maggiori dettagli, ma fatto sta che questa sarà una settimana davvero piuttosto capricciosa e peraltro con temperature che dopo un timido aumento proprio sull'inizio di settimana torneranno chiaramente a diminuire. Se tutto verrà confermato invece potrebbero esserci spiragli di un ritorno del sole proprio a cavallo del fine settimana, ma anche in questo caso seguiremo la situazione giorno dopo giorno, ci aggiorneremo strada facendo. Per ora è tutto amici grazie per essere stati con noi, a più tardi.